Bravo, 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 bravo Stiamo subito con me, il maestro Mandarà a raggiungermi Io rimango sempre affascinato dal potere dell'opera fisica Il potere che purtroppo non ha più ai nostri giorni, o meglio, non viene riconosciuto Ma che in un recente passato invece aveva talmente tanta forza da far sì E una delle torbi del castello di Saragozza prendesse il proprio nome da un'opera di Giuseppe Verdi Il Trovatore, è la torre del Trovatore al castello di Saragozza Proprio perché lì si svolge l'ultimo atto dell'opera monica di Giuseppe Verdi È Giocoforta che sia il primo titolo di questa seconda parte della nostra proposta Ed è anche Giocoforta trovare su cui il luogo più celebre di quest'opera Quello che chiude il tempo ha Prima l'andante cantabile Assi del mio E a seguire dalla voce di Rudy Park quella ira Grazie 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 Allora Grazie a tutti. Oggi dobbiamo stringere i denti perché come avete visto, fuori stanno preparando una manifestazione del San Valentino, questa sera il salmone lo dobbiamo lasciare un po' prima. Facciamo subito la premiazione. Il nostro grande Rudy. Allora, parlo un po'. Allora, buonasera a tutti. E con la cosa, una cosa potrei chiedere. Allora, nostra amica, signora Paola, no? Paola. Allora, sua sorella un po' stamane in America. Quindi, passo, passo. Allora, quindi per da solo sempre è difficile, però tutti insieme per pregare per sua sorella. Grazie. 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 Grazie.